La storia italiana che si impara a scuola, quella che la Germini vi obbliga a studiare a scuola, ai ragazzi, e quella che abbiamo imparato noi prima della Germini, è un grande inganno. Noi sardi che non siamo considerati niente a livello nazionale, né politicamente perché non abbiamo un ministro, non siamo considerati niente culturalmente perché non siamo inseriti in nessun, in nessun programma scolastico, quindi in nessun libro di storia, di letteratura, di storia dell'arte. Non siamo considerati a livello sociale perché ricordatevi che chi è del continente è nel continente, a noi ci vede come un'appendice esotica, come se fossimo le Hawaii, dove si vengono a fare bagni, abbiamo un bel mare, abbiamo un bel cielo, ma di noi non sa niente.